Ben trovati a voi tutti! Eccoci ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Apriamo la settimana parlando del seminario gregoriano di Belluno, una vera e propria istituzione all'interno del nostro territorio, un punto di riferimento per la comunità. E quest'oggi è tornato a trovarci in studio Monsignor Giorgio Lise, che è il rettore del seminario. Ben trovato, Monsignore. Ben trovato, ben trovata lei. Una realtà importante, Monsignore, con una lunga storia che diventa adesso punto di riferimento anche per i sacerdoti che potranno trovare ospitalità all'interno della struttura. Sì, è l'ultima notizia che già passa anche sui giornali. Diciamo che è la risposta che il Vescovo, la Diocesi, intende dare a delle necessità che si possono presentare ai sacerdoti che ancora in forza, però per motivi vari, lasciano la responsabilità diretta di una parrocchia o di un ufficio e magari non hanno dove andare. È brutto dire in pensione perché sono chiamati a lavorare ancora, ma in modo diverso. Il seminario ha tanti locali, le ex celle dei frati, quelle che erano poi diventate, sono tuttora le camere, le stanze dei professori del seminario. Anche queste verranno riadattate con dei comfort un po' più attuali, più necessari al giorno d'oggi, per ospitare appunto dei sacerdoti che volessero usufruire dei servizi che dà il seminario. Perché in questa istituzione c'è un buon numero di personale, sono cinque persone, che pensano alla conduzione di questa struttura, le pulizie, i pranzi, tutto quello che serve per una vita quotidiana, normale, per cui una persona, un sacerdote può fare altro, può andare ad aiutare in parrocchia, può partecipare a delle iniziative culturali e sa che nel seminario trova comunque i servizi che gli permettono di non avere altri pensieri, come li potrebbe avere se dovesse essere in un appartamento da solo. Ecco, questa è la prospettiva per rendere anche abitato il seminario. Adesso non ci sono più i ragazzi, come sappiamo, c'è però la scuola Il Lollino, che vogliamo davvero portare avanti, c'è l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e quindi una certa vita c'è. Ecco, riempiendo questa area del seminario, dando quindi possibilità di usufruire in maniera dignitosa di questi luoghi, per i sacerdoti credo che sia una bella iniziativa. Anche l'occasione comunque per fare comunità ulteriormente. Sì, appunto, scrivevo in una lettera della festa dell'Assunta, quando era la giornata per il seminario, che se i preti più anziani, o comunque ancora in gamba però, tornano in seminario, e dopo aver passato tanti anni lì da ragazzi, è come una restituzione che fanno, no? Di talenti che hanno messo a buon frutto nella loro vita sacerdotale, adesso rientrano lì con la loro esperienza, potranno esserci momenti di preghiera, anche aperti a tutti, insomma, una volta che ci saranno, si vedrà veramente anche come fare, come portare avanti. Infatti si parla comunque di un po' di tempo ancora, nel senso che ci vogliono dei mesi forse per fare i lavori, vero? Che qualcosa sarà pronto per il prossimo anno, ecco. Ecco, giusto per dare un ordine temporale, però comunque una notizia importante. Il seminario stavamo vedendo anche, grazie all'aiuto di Simone che ci segue in regia, alcune immagini che rappresentano questo luogo, luogo di spiritualità, di formazione, di cultura, e luogo che apre le porte comunque alla cittadinanza bellunese, proprio per dei momenti di dialogo, di incontro, di riflessione. Sì, sì, quasi per rasserenare gli spiriti, no, davvero, l'anno scorso, dopo il periodo della pandemia, abbiamo fatto alcuni incontri, abbiamo chiamato al tramonto nel chiostro, nel chiostro gotico che è molto significativo. Lo vediamo proprio, meraviglioso. Qui in seminario. Sono momenti molto semplici di poesie, declamate di musica, musica del maestro Carlo De Battista, sue proprie musiche proprie, oppure musiche classiche tipo di Bach, Schubert, Beethoven, e le poesie declamate dal professor Antonio Chiades. Ecco, per cercare che la gente entrasse intanto a vedere questo chiostro, ci siamo accorti quando abbiamo fatto la mostra del Codice Dantesco, che molti bellunesi non erano mai entrati, e quindi aprire appunto queste porte, perché possano venire a vedere e a gustarsi la bellezza di questo luogo, e nel tempo stesso ascoltare, rasserenarsi nello spirito proprio attraverso poesie e musiche che hanno carattere anche certamente spirituale, ma anche qualche volta più prettamente proprio religioso, quindi fanno anche pensare. Lo ripeteremo iniziando dal 22 aprile e poi continuando tutti gli ultimi sabati del mese, con l'eccezione di agosto, e con un percorso anche, come dicevo, religioso, ma che guarda anche alla natura, alla filosofia. Insomma, ci sono tanti aspetti che possono riempire l'animo delle persone. Ci sarà poi un ricordo in ottobre, una commemorazione della tragedia del Bayonne, nella cappella gotica però del seminario, e infine abbiamo pensato anche di dare un omaggio, non c'è qualche circostanza particolare, ma un omaggio riconoscente alle suore dorotei che per tanti anni hanno posto la loro dimora in seminario e hanno dato i loro servizi. Ci sarà un concerto poetico in onore e in ricordo di Santa Maria Bertilla, che è una delle suore dorotei, che è santa appunto, in cui il corpo è conservato nella casa madre a Vicenza di queste suore. Ma il seminario è anche un luogo dedicato alla formazione e all'approfondimento, grazie per esempio alla biblioteca, preziosa biblioteca, le due biblioteche che voi avete. Sì, una più aperta e consultabile anche dagli studenti per esempio dell'Ollino ed è la Gregoriana, nella sua parte più recente che è al piano terra e in quella classica, diciamo quella storica, che è il primo piano che contiene anche tutta la donazione di Gregorio XVI, il Papa Bellunese. E poi c'è la Loliniana che è di proprietà del capitolo della cattedrale e negli ambienti appunto del seminario. Questa non è, diciamo, chiaramente aperta, però si possono consultare. Don Antonio Defanti ha catalogato anche un po' tutto, ha fatto le fotografie di tutti, ecco, di tante cose. Quindi possiamo anche, senza far venire la gente, trasmettere digitalmente i documenti. Ecco, però lì ci sono incunaboli, ci sono manoscritti, è veramente la ricchezza più grande come biblioteca che abbiamo lì. Certo, documenti preziosi. E la biblioteca, dicevamo, completa anche questa parte preziosa appunto per il seminario. Poi per esempio c'è anche la chiesa di San Pietro. La chiesa di San Pietro. Adesso nel 2026 saranno i 700 anni della sua dedicazione, quindi stiamo già mettendo in moto un po' il cervello per trovare delle idee e poi troveremo anche le persone che le concretizzano. Non sta a me dire della preziosità di questa chiesa, del tesoro che la chiude, è veramente uno scrigno di opere d'arte. Non è molto frequentata, era la chiesa del seminario, dei seminaristi, non è molto frequentata oggi perché c'è una messa al mattino della domenica e poi si apre per altre cose, visite oppure altri momenti di preghiera che vengono chiesti. E un ricordo speciale all'interno del seminario ovviamente va fatto per la figura di Albino Luciani, il Beato Luciani. Il Beato Albino Luciani, Giovanni Paolo I, che è stato ordinato ad un Albino Luciani in quella chiesa il 5 luglio del 1935 e quindi quando entriamo lì per pregare o anche solo per visitare sentiamo la sua presenza. Ecco, vediamo proprio il busto che ritrae all'ingresso, vero, del seminario? Sì, sì, il busto di bronzo di Fachin. Ecco, la figura di Luciani certamente ci accompagna, accompagna tutta la struttura del seminario e chiediamo che ci sia anche un po' da intercessore adesso dal cielo. Lui che ha amato il seminario davvero, servendolo per tanti anni, sia come docente, sia come vice lettore e credo anche come vicario generale perché il vicario generale non può dimenticare il seminario. Senta, Monsignore, ci sono ancora alcune cose, secondo lei, che dobbiamo sottolineare in questa carellata generale che abbiamo fatto? Poi naturalmente ci ritroveremo ancora prossimamente ad aprile proprio per annunciare il programma nel dettaglio che state finendo di ultimare in questi giorni. Ma diciamo che noi intendiamo, ecco, questo potrei dire, queste iniziative che non sorgono da uno zero, non è che prima non ci fosse nulla, però sentiamo come persone che abitano in seminario, sentiamo il bisogno che sempre di più i cittadini, oltre che i credenti, sentano il seminario come un cuore pulsante. Prima era della diocesi soprattutto perché venivano formati i sacerdoti. Adesso è della diocesi, del territorio, della città, della provincia, perché qui nel seminario c'è una storia di fede, di arte, di persone che hanno fatto grande anche la città, credo di poterlo dire. E dunque il nostro intento, credo di non essere solo in questo pensiero, in questa tensione, credo che il nostro impegno sia quello davvero di dire che il seminario è aperto. Ecco, ovviamente il personale è quello che è, bisognerà accordarsi prima e per le visite, o per un'ospitalità, però si senta davvero che non c'è nessuna preclusione, non c'è dietro qualcuno che dice uffa, va bene? Anzi, siamo davvero molto contenti. Pronti ad accogliere, ecco, le persone. Se si può entrare, ecco, è sempre di più. Benissimo, allora con quest'ultima sollecitazione, Monsignore, noi ci salutiamo, io la ringrazio come sempre per essere tornato a trovarci, per averci dedicato un po' del suo tempo per parlare di quella che è una vera e propria risorsa del territorio. Grazie ancora Monsignor Lise. Grazie, grazie a lei e a tutti voi. E a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Monsignor Lise